Allora, indico, chiedo ai colleghi di prendere posto, si tratta di un voto importante, quindi Onorevole Savino, prego Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul progetto di legge costituzionale già approvato in testo unificato in prima deliberazione dalla Camera e approvato senza modificazioni in prima deliberazione dal Senato, numero 4205, 4525, 4526, 4594, 4596, 4607, 4620, 4646B Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta Costituzionale Ricordo che a norma dell'articolo 138, primo comma della Costituzione per l'approvazione di progetti di legge costituzionale in seconda deliberazione occorre la maggioranza assoluta dei componenti della Camera è aperta la votazione, Onorevole Cicchitto, è aperta la votazione Tanoni Non vota? No, vuole votare Tanoni Marchioni Marchioni Perfetto Non vedo nessun altro che deve votare È chiusa la votazione Presenti 511 Votanti 492 Astenuti 19 Maggioranza 316 Favorevoli 489 Contrari 3 La Camera approva Risulta Pertanto raggiunta Non solo la maggioranza assoluta Ma anche la maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera Di cui all'articolo 138, terzo comma della Costituzione La Camera approva Quindi ho già detto che approva Possiamo andare avanti? Perfetto 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 Grazie.